Ciao! Daniela, giusto? Io sono Daniele, è piacere, sono in tuo video. Cosa la devi fare? Mi vuoi raccontare un po'? La prima esperienza. Esperienza in tandem. Come ti senti? Emozionata? Pareffio. Dai, sei con il nostro copra. È molto innattissimo. Da dove vieni? Da Correggio. Bene. D'accordo, dai, appena siete pronti, ci chiamiamo l'aereo, ragazzi. Sì, a dopo. Vai, ciao! Ci siamo? Vieni, 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 vieni. Conte? Vieni, 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 vieni Io sono Imerichiana Vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Trappo sei! Io sono i Samsung Sì sono pi Ling classico Trattare Rozzando Corazzi Tres Penasid No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.